Avevo avvisato i ragazzi, dovevamo stare attenti soprattutto nei primi minuti, infatti loro hanno giocato bene. Così, mister Giovanni Falsone, allenatore del Canicati Calcio, commenta la vittoria della sua squadra contro il Ragusa nei quarti di finale di Coppedale di Promozione Memorial Oraziosino. Al di là del risultato, il margine poteva essere molto più rotondo, ma vincere 4-1 la gara del genere ci fa onore. Mi sento orgoglioso, aggiunge il mister, di poter allenare un gruppo del genere. A noi interessa andare in eccellenza, anche se il presidente Sandro Giglia tiene alla Coppa. La vittoria contro il Ragusa è dedicata a lui. Intanto non sarà ripetuta la partita del campionato di promozione Gironeatra, l'Atletico Ribera e il Campobello di Mazzara, per la quale la società crispina del presidente Pasqualino Borsellino aveva presentato ricorso. Il motivo è stato perché l'arbitro, il signor Pomara di Palermo, ha ammonito durante la gara per due volte lo stesso giocatore, senza estrarre il cartellino rosso, quindi per un errore tecnico. La decisione è stata presa dalla Lega Sicula, che ha comunicato il provvedimento adottato dopo aver risentito il direttore di gara. Nella comunicazione della Lega si legge la motivazione adotta dal direttore, che recita così. Durante la compilazione del modulino di fine gara scrivo erroneamente Gasper e Nizzola, numero 11 del Campobello, per due volte nella tabella degli ammoniti, quando invece è stato ammonito una sola volta al minuto 33 del primo tempo, come riportato nel referto. La cancellatura del modulino di fine gara avviene subito dopo essermi accorto dell'errore, quindi probabilmente non si è ricalcato sulle copie consegnate alle due società. La Lega ribadisce che gli atti ufficiali godono di fede privilegiata, per cui il reclamo dell'atletico Ribera viene respinto. Il risultato è stato omologato a favore del Campobello, che ha vinto sul campo per 1-0. È previsto un ulteriore ricorso. La prossima giornata del campionato di promozione, la ventiquattresima, in programma domani e domenica, prevede i seguenti incontri. Atletico Ribera, Ares Menfi, Ravanusa Campobello, Salemi, Canicattica, Stellammare e Castel Termini, Partinico Adagia Gattopardo, Serra di Falco, Cinque Torri Trapani, Libertas, Nuova Sancis e Camart Raffadali.